Finalmente si lavora, non una ma ben quattro leggi approvate. Ieri, alla ripresa pomeridiana, l'Ars, dopo una mattinata con un nuovo rinvio per l'assenza del numero legale, è tornata a legiferare, partendo dalla revisione del regolamento interno. Il documento, proposto dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, ha subito però un duro colpo. L'articolo 6, quello che prevedeva una consistente limitazione del ricorso al numero legale, viene rimandato in commissione su proposta di Girolamo Turano. Ad ogni modo la legge passa, cambiano così le funzioni di alcune commissioni e soprattutto si ridistribuiscono i posti in vista della prossima legislatura, quando i deputati saranno 70. Poi, nel giro di una cinquantina di minuti, sono arrivate altre due leggi, un testo breve di un solo articolo che riconosce un centinaio di milioni di debiti fuori bilancio e soprattutto il rendiconto della regione siciliana, impugnato in appello dalla Procura Generale della Corte dei Conti. Il documento, alla fine, è passato con 42 sì. In aula, però, i presenti erano addirittura 67, con un affollamento che a sala d'Ercole non si vedeva da tempo. Nei giorni scorsi, a più riprese, era stata infatti invocata la partecipazione dei deputati, ai quali si era rivolto anche l'assessore al bilancio, Alessandro Baccei, chiedendo di esprimere dignitosamente il proprio ruolo e dare finalmente le risposte attese dai cittadini siciliani. L'Assemblea regionale, poi, si è dedicata alle due leggi più delicate, l'assessamento di bilancio, il cosiddetto collegato, e le norme stralciate dalla finanziaria in attesa all'Ars dal 29 aprile scorso, da quando, cioè, l'Ars ha votato l'ultima legge prima di oggi. Da allora sono passati ben 100 giorni. L'approvazione degli atti finanziari da parte dell'Assemblea regionale siciliana chiude un procedimento di bilancio che dà certezza ai conti, in seguito al giudizio di parifica della Corte dei Conti, ha affermato in una nota il presidente Giovanni Ardizzone, esprimendo soddisfazione per l'ok di sala d'Ercole al rendiconto generale 2016 e all'assestamento di bilancio del 2017. Grazie a tutti. Grazie a tutti.